ragazzi news di lunedì ultimo di settembre siamo entrati direttamente nella penombra dell'autunno inverno i risultati di calcio oggi parliamo solo di sport solo sport tutte le grandi le big hanno vinto quindi domenica da copione domenica dove non si possono vincere soldi facili perché tutti i risultati napoli juve hanno vinto tutti quindi è così ragazzi parliamo anche della tornata di frasettimanale dove domani vediamo c'è inter stella rossa di belgrado con la notizia news delle ultime ore chiusa la curva dei tifosi serbi per gli incidenti avvenuti nella passata partita del loro campionato e di coppa dove è andato fuoco alle macchine della pulizia le ambulanze addirittura questi sono matti e quindi non ci saranno i tifosi serbi per l'intemperanza a san siro lunedì news finisce qui